Benvenuti nella piattaforma social web blog di Lemine News Visit Lemine. Il nostro obiettivo è fornire un luogo di informazione, discussione e condivisione di idee, segnalazioni, esperienze, notizie e interazione tra i membri, in particolare sui temi legati principalmente ai paesi di Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolomeo, Palazzago, Barzana, Clanezzo e alla Valle Imagna in generale. Questo gruppo fa parte di un ecosistema di social media, dove le informazioni postate dai membri e dagli amministratori sono interconnessi e potrebbero essere visibili anche sulle nostre pagine Facebook, sul nostro canale Instagram, sul nostro canale YouTube, sul nostro sito web nella community di WhatsApp e in alcuni casi anche sul nostro canale TikTok. Ci impegniamo a garantire che tutti si sentano al sicuro e in un ambiente di condivisione di idee pacifiche e rilassanti. Per ulteriori info contattateci con un messaggio al nostro numero WhatsApp 389 598 3598. Saremo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. Grazie e buona giornata!